E' entrato in vigore il 9 aprile il decreto legge sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese che prevede di sbloccare 40 miliardi nei prossimi 12 mesi. Una boccata d'ossigeno per molte aziende, un provvedimento che è probabilmente arrivato anche troppo tardi. Cerchiamo di dare delle cifre. Quanto è esattamente questo debito? Consigliere Damiano Zoffoli, PD. La Banca d'Italia sostiene 91 miliardi. In realtà la CGA di Mestre aggiunge a questa cifra un'altra quota che è riferita al debito delle piccole e medie imprese, cioè quelle che hanno meno di 20 dipendenti, un debito che non è conteggiato. In più c'è tutta la partita che riguarda la quota di ammortamenti per investimenti in edilizia sanitaria di 10 anni. E quindi il debito in realtà supera abbondantemente i 130 miliardi di euro. Poi bisogna chiarire chi l'ha prodotto, a chi è in capo questo debito. Il 93% di queste risorse, di questi debiti, sono in capo allo Stato. Il 7% è il sistema regioni, province e comuni. Si tratta di iniziare a pagare questo debito. È fondamentale e prioritario. Le imprese muoiono, le imprese licenziano. L'operazione di 40 miliardi del decreto legge è solo un primo passo significativo, importante, ma anche in questo senso bisogna accelerare. Sono fondamentali i tempi. Non è possibile che chi ha verso lo Stato deve avere dei soldi dall'amministrazione pubblica, poi deve pagare le tasse, i tributi, con delle sanzioni se non rispetta le scadenti. Per quel che riguarda la Regione Emilia-Romagna è intervenuta col patto di stabilità regionale che facendosi garante verso lo Stato e del sistema istituzionale dentro i confini regionali è riuscita nell'arco di due anni e mezzo a liberare risorse che fra l'altro erano già presenti nei bilanci comunali ma non potevano essere spese per 362 milioni di euro. Gli ultimi 62 milioni saranno resi disponibili entro il maggio prossimo a beneficio soprattutto dei piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti. È un'operazione fondamentale, strategica, assieme agli anticipi di cassa straordinari verso la sanità per ridurre i tempi di pagamento che sono ancora molto alti anche in Emilia-Romagna, 230 giorni rispetto ad una media nazionale che sfiora in alcuni casi 300 giorni. Grazie a tutti!